Allora, eccoci a una nuova puntata di pezzi di karma. Mi fa molto piacere che vi piaccia questa rubrica perché secondo me ci è molto utile. Andiamo a vedere di cosa parleremo questa settimana. Questo sarà il pezzo di karma da guarire e questo come guarirla. Io già ho visto. Allora, il pezzo di karma da guarire è la legge di causa-effetto. Che vuol dire? Dobbiamo capire come usare questa legge. La legge di causa-effetto è una legge fondamentale. Vi voglio fare una breve parentesi storica, diciamo così, di spiegazione che secondo me è importante. A volte la legge di causa-effetto e la legge del karma sono usate come sinonimo. Io, chi mi segue lo sa, non le ho mai usate come sinonimo per una scelta personale, una scelta stilistica, chiamiamola così, perché nella mia ricerca ho capito che la legge del karma ha una matrice più orientale, quindi questo concetto di karma, di vita dopo vita, di reincarnazione, che sono concetti che molti di noi hanno fatto propri e in cui credono, però non è un concetto della nostra società. La maggior parte delle persone intorno a noi non crede nella reincarnazione, mentre se si va in oriente è un concetto comunissimo, tutti ci credono. Quindi questa cosa mi aveva fatto riflettere da ex avvocato, so che quando un qualcosa non è tipico del territorio, in un certo senso fa eccezione. Mentre la legge di causa-effetto è molto più tipica della nostra cultura, infatti noi la legge di causa-effetto la troviamo nella fisica, proprio nelle scienze, la troviamo nel diritto quando si deve compiere un reato, no, ora quando si compie un reato, quando si compie un'azione sanzionabile, bisogna vedere se c'è questa condicio sine qua non, cioè se c'è questo collegamento tra il pezzo prima che l'ha generato e il risultato finale. Quindi se per esempio, non lo so, non faccio conto, voi fate un'azione e succede un qualcosa, affinché la persona possa reputare, o lo Stato possa reputarvi responsabili, ci deve essere una vera e propria interconnessione. Non è che magari, non lo so, uno fa una cosa e dice sì però il vicino mi ha stressato, no, ci deve essere veramente una sequenza logica, un qualcosa. Quindi è molto importante a livello di diritto. Cioè anche a livello filosofico, eccetera, non mi dilungo. E quindi ho deciso di separare queste due leggi. Quindi il fatto che sia uscita la legge di causa e effetto mi porta a dirti di lavorare su quel lavoro più veloce, nel senso inerente a questa vita. La legge di causa e effetto parla delle cause che hai sposato e degli effetti che stanno generando. Qual è il punto perché è un blocco karmico? È un blocco perché probabilmente devi andare a vedere uno che cause hai sposato. Perché in realtà noi facciamo un errore molto comune che è quello di focalizzarci sugli effetti. L'effetto non va come volevamo. Mannaggia, che cavolo che è? Ma che cosa ho fatto prima? Cioè, nel senso, voglio per esempio ottenere un risultato. L'ho chiesto bene? Ho pulito le mie convinzioni e pattern negativi? Ho lavorato con la giusta energia? Ho fatto tutto questo lavoro? Sì? No? Ok? Questa è già una prima parte. Oppure anche il fatto che dentro di noi, a livello di karma familiare, muovono delle convinzioni. Se in famiglia siete cresciuti con la sfiducia verso gli altri, perché i vostri nonni, i vostri genitori, hanno stati traditi, gli era stato portato via tutto, erano stati ingannati, per carità non dico che non sia giusta la loro sfiducia, però quando c'è una sfiducia galoppante che si passa di generazione in generazione, voi crescete o siete cresciute sfiduciate e quindi per quanto dici ah, troverò la persona più meravigliosa della vita, che sia un amico, che sia il datore di lavoro, che sia il partner, dentro di te tu sai che le persone non sono meritevoli di fiducia e quindi hai un problema con la fiducia e quindi questo sarà complicato. Ok? Quindi il pezzo da lavorare è questo e guarda un po' la soluzione, è la legge dell'abbondanza. Questo limite lavora sull'abbondanza, quindi la guarigione è iniziare a fare, ti do un esercizio pratico, questa cosa, una lista delle cose che vuoi attrarre nella tua vita e attenzione che quando si lavora questo, questa combo, questa unione, potrebbe essere come se tutto ti andasse male, tutto ti andasse all'opposto, quindi chiedi una cosa e hai l'esatto opposto, desideri una cosa e hai l'esatto opposto, bene, ok? Tu dici bene, come bene? Sì, bene, benissimo, perché vuol dire che c'è da lavorare sulle cause, entra dentro di te, vai a, dici, non so, voglio manifestare più soldi, invece arrivano bollette. Non è la legge, le leggi non funzionano, o, ah, non ci credo più, ah, bla bla bla, è, che cavolo, dov'è il blocco? Perché dov'è la causa che non ha generato l'effetto sperato? Quindi lavora sugli effetti, vai a vedere l'abbondanza nella tua vita e per abbondanza, lo ripeterò sempre, non intendo soltanto abbondanza di soldi, intendo abbondanza di salute, abbondanza di amicizie, ricchezza, sei ricca, la tua vita è ricca, la tua storia è ricca e meravigliosa, la tua socialità è appagante, vieni cercata dalle persone, ti vogliono stare con te, il tuo conto in banca, anzi, i tuoi conti in banca sono belli, prosperi, vivi una vita ricca, sotto tutti i punti di vista di esperienze, di gioia, tu dici, magari mi stai ascoltando e dici, vabbè, sei pazza, non esiste, ecco, c'è il problema con la legge di causa effetto, è là che devi iniziare a lavorare, fatti la lista per aree, tematiche, di come potrebbe essere bella, di dove potrebbe essere più ricca, la tua vita, e poi pezzo a pezzo, vai a capire, dove è bloccato, questo lavoro, i pezzi che vai a guarire, però scrivilo, perché sennò a mente non lo ricordi tutto, i pezzi che andrai a guarire, si manifesteranno con forme di abbondanza, potresti fare nuove amicizie, potresti iniziare ad avere una storia più appagante, una nuova storia, dipende se sei single, se sei in coppia, potresti avere un aumento di stipendio, piuttosto che se invece passano avanti tutti i clienti, i clienti, i colleghi, se il partner, non so, la tua storia è un po' povera, e bussate insieme, non si sa bene perché, quindi capito, come deve essere, nel momento in cui la tua vita inizia ad essere abbondante, allora è della dimostrazione, se credi che non potrà essere abbondante, c'è già il primo problema su cui lavorare, spero che questi pezzi di karma, vadano presto a posto, perché sono fondamentali, ok, se questa rubrica ti è piaciuta, regalaci un like, se non sei iscritta al canale youtube, leggera magia, fallo subito, se hai qualche amica, conoscente, persona a cui vuoi bene, che ha bisogno di questi consigli, condividile il video, è una forma di abbondanza, tanta luce, a settimana prossima, ciao!